Si parte, partita questa finale, seniors maschi 5.000 Campana, campana vuol dire che dal prossimo giro cominciamo a dare i punti i punti verranno dati al primo e al secondo che passano sul traguardo per tutti i giri tranne l'ultimo in cui verranno dati i punti al primo e al secondo e al terzo quindi da adesso si fa sul serio numero 668 Fiale Mattia Ammonito, ripeto 668 Fiale Mattia Ammonito passaggio almeno 11, 47, 974 sono i primi punti di questa finale 9, 7, 4 e 18 punti passaggio a meno 10 passaggio a meno 9 passaggio a meno 9 9-7-0 e 9-7-4 Passaggio a 8, a meno 8 18-9-7-0 Passaggio a meno 8 Passaggio a meno 7 punti, punti 9-7-4-18 Passaggio a meno 6 Passaggio a meno 6 188-3-6 Passaggio a meno 6 Passaggio a meno 5 Passaggio a meno 5 punti 3-6-4-2-1-2 Questi sono i punti Passaggio a meno 4 Passaggio a meno 4 9-7-4-2-1-2 Passaggio a meno 5 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 3, 7, 4, 52, passaggio meno 3, passaggio meno 3, passaggio meno 3, e andiamo col passaggio meno 2, 52, 97, 4, questo è il passaggio a meno 2. E vai col passaggio a meno 1, campana, ultimo giro, 97, 4, 52, questi sono gli ultimi punti che diamo, perché adesso andiamo al giro, finale di questa finale, signore smaschi 5.000 punti. E andiamo a finire questa finale con il numero 52, 97, 4, e manca il terzo che adesso arriverà, credo sia lui, 18, il terzo è arrivato, è il 18 che prende i punti del terzo arrivato. Gara ancora attiva, quindi nessuno può entrare in pista, per favore, grazie. Grazie.